Preciso prima di tutto che per questa ricerca ho preso in considerazione i protocolli della seconda metà del XIV secolo, i più antichi conservati, ricorrendo alle edizioni a cura di Renzo Mosti e Isalori San Filippo, alle trascrizioni dello stesso Mosti, messe a disposizione nel sito della Società Romana di Storia Patria e a schedature dagli originali inediti. In tutto è individuato alcune centinaia di atti di compravendita e affitto di immobili urbani edificati e non, per lo più fabbricati per abitazioni e vigne, per i quali sono elencati i confini. Fra questi, e quasi esclusivamente fra questi, spiccano le testimonianze che qui interessano, quelle relative alle strade. Punto di riferimento indispensabile per il periodo precedente, dal secolo X al XIII, è la sistematica ricerca sulla documentazione degli enti romani effettuata da Etienne Hubert. E importanti dati di confronto, anche per il periodo immediatamente successivo rispetto a quello toccato da questa ricerca, vengono dagli studi sullo stesso tipo di documento realizzati da Giovanna Curcio, Anna Esposito, Jean-Claude Merviguer, Anna Modigliani, Luciano Palermo. Studi con i quali si possono utilmente incrociare, come abbiamo visto ieri, i dati scaturiti dalle campagne di archeologia urbana. Siamo di fronte a un patrimonio documentario ben ridotto rispetto a quanto sarebbe dovuto essere se i protocolli notarili fossero giunti sino a noi in forma completa. Basti pensare che, come ricorda Cristina Carbonetti, di nessuno dei quindici notai romani del Trecento, dei quali ci sono state tramandate le imbreviature, si conserva la serie intera senza lacune per un certo numero di anni. E anche per la prima metà del secolo quindicesimo sono pervenuti relativamente pochi protocolli rispetto a quello che doveva essere il ragguardevole numero dei notai attivi, secondo quanto risulta da altre fonti. Le cause della dispersione, probabilmente assai remota, a dispetto delle misure prese dai legislatori sin dalla metà del secolo quindicesimo, devono essere state molteplici, dall'incuria al desiderio da parte degli eredi di un notaio di conservare i suoi scritti presso la famiglia, al fatto di essere in gran parte conservati nella sagrestia della chiesa di Santa Maria di Naraceli, sito esposto ai disordini cittadini per la vicinanza della sede del comune, e al fatto che dopo anni non occorresse più ricavare copie di un atto ricorrendo alle vecchie imbreviature, infine e soprattutto al semplice caso. La percezione del territorio da parte dei notai attivi nel periodo in questione è stata oggetto delle fine analisi di Jean Coste. Loro peculiarità era lo stile sobrio, con riferimenti stabili alla realtà quotidiana, in quanto si tratta di figure professionali ben consapevoli dello spazio circostante, e inoltre capaci di un alto grado di precisione nei confronti della descrizione di ambienti urbani e paesaggi rurali, quando ritenuto necessario. Si tratta inoltre di personaggi radicati nella città, spesso impegnati in ruoli istituzionali, come per esempio quello di Caporione, e quindi conoscitori della vita urbana sotto molteplici punti di vista, compresi lo spazio e i rapporti sociali. Il loro circuito di azione era legato soprattutto al rione dove si trovava la propria residenza, rione al quale appartiene di solito la maggioranza degli immobili citati nei rispettivi protocolli. Dunque va ritenuto presente il valore delle omissioni. Se un termine non compare vuol dire che quel tipo di realtà non figurava oppure doveva essere designata tramite altri termini o ancora non serviva a darne conto. I notai per esempio erano in grado di precisare le distanze in miglia da Roma, ma raramente lo facevano. Nel caso delle superfici dei terreni, così come in quello dei beni urbani, i mezzi per calcolarle non mancavano. Tuttavia dai notai erano ritenuti sufficienti gli elementi confinari, mediamente nel numero di 4, i due lati avanti e dietro, per localizzare un bene immobile all'interno del tessuto urbano nel quale essi operavano. Per quanto riguarda il territorio rurale, si ricorreva ai nomi dei casali o dei tenimenti a castri, per gli immobili in città al nome dei proprietari confinanti. Non figura nei notai alcuna preoccupazione per la tecnicità se non per le questioni prettamente giuridiche. Il notaio conosceva esattamente ciò di cui parlava e descriveva l'essenziale. Come osservava Cost, tutto ciò rivela un'innegabile eleganza, una grande facilità e padronanza del mestiere. Come già anticipato, la ricerca ha mostrato che negli atti notarili romani trecenteschi il riferimento alle strade figura regolarmente, con rarissime eccezioni, nella parte dispositiva, in particolare in quella dedicata alla localizzazione topografica dei beni urbani, oggetto di compravendita, donazione e affitto. Solo in pochissimi casi, vie e piazze figurano nell'actum, ossia nella parte finale, con l'edicazione del luogo dove è stato redatto il documento. Di solito un'abitazione, spesso quella del notaio stesso. Oppure compaiono inarbitrati, o ancora si sono impiegate nella denominazione di contrade e di chiese. O infine a volte qualificano la provenienza dei personaggi eccitati dagli atti. Ma si tratta di pochissimi casi nei quali figurano vie con denominazioni proprie. Nella parte in questione, l'elenco dei confini costituisce l'ultimo grado della localizzazione topografica, quello che scende al massimo dettaglio dopo l'indicazione della regio, il rione, l'assetto di questa forma di ripartizione territoriale urbana è ormai fissato da tempo. A volte della contrada, ossia l'ulteriore ripartizione interna alla regione, sempre più frequente nelle indicazioni topografiche dei notai a causa del progressivo intensificarsi dell'abitato, e raramente della parrocchia, anch'essa in questo contesto utilizzata in qualità di ambito territoriale con una propria esatta delimitazione. I protagonisti del transizione sono soprattutto figure attive nella vita economica della Roma trecentesca e l'oggetto è costituito da domus, domus e casamenta più consistenti, con i relativi fabbricati e spazi aperti annessi per lo più retrostanti, ma anche vigne situate in Framenia e spesso fosse a ridosso delle mura. I rioni maggiormente citati sono Parione, Pigna, Trevi, Arenula e Monti. La terminologia utilizzata nel riferimento alle strade urbane da parte dei notai trecenteschi si limita a tre forme, con rare eccezioni prive di denominazione, come già indicato. La via pubblica, il viculus o via vicinalis, quest'ultima molto meno rappresentata in città o almeno nella parte costruita di essa, e la platea, termine che proprio in questo periodo sta progressivamente sostituendo il campus. È tale gerarchia da considerarsi realistica, sia per le caratteristiche della pratica notarile appena enunciate, sia in considerazione della fonte normativa, gli statuti del Comune di Roma nel 1360, nella quale, a proposito di pulizia e manutenzione, sono impiegate le forme via comunis pubblica, seo vicinali vel viculo. Dunque due tipi di tracciato lineare, distinti in base all'uso pubblico o meno, e anche alla dimensione per i vicoli, infatti indicata una larghezza minima di quattro palmi, circa un metro. La via pubblica, quale confine anteriore, ante, figura per la quasi assoluta totalità delle domus menzionate negli atti, praticamente senza eccezioni e indipendentemente dalla presenza di altre strutture antistanti le facciate delle case stesse, quali portici e colonnati. Come messo in evidenza dagli studiosi che hanno affrontato il tema della struttura degli isolati, il caso più frequente è quello che vede la serie di case affacciate sulla strada, case con forma allungata e dotate nella parte posteriore di uno spazio aperto, un orto che sarà poi sostituito da un cortile, quando non completamente chiuso con costruzioni. Questa forma di isolato nel Trecento sembra mantenere le caratteristiche principali di quella delineata da Etienne Hubert per il periodo precedente. In alcuni casi le vie pubbliche costituiscono il confine su tutti i lati, quando domus e a casa menta manifestano una certa consistenza occupando l'intero isolato. Meno raro è il caso di domus che confinano ante e tretro con vie pubbliche. Qui la rete della viabilità si rivela più fitta, con strade parallele ravvicinate, qualificando aree senza orti e rinclaustra dietro le case, quindi un tessuto più densamente costruito. Vi sono anche alcune case di due vie pubbliche che delimitano un immobile senza indicazione di ante e tretro, da cui si deduce una posizione d'angolo. Nel rione e pigna, per esempio, sono citati diversi palazzi e case con membri vari, fra cui loggi affacciati su due strade. Alcune testimonianze riguardano la viabilità presso il fiume, documentata da domus confinanti retro con il Tevere, ante con la via pubblica e ai lati con altre domus. Quindi, in questo caso, siamo nel rione Trastevere, la strada non costeggiava la riva che doveva essere delimitata direttamente da una fila di case, ma correva sull'opposto lato di queste, parallela al corso del fiume. Come noto dalle ricerche archeologiche e dopo quanto abbiamo sentito anche ieri da Michele Asciutti, anche i notai offrono testimonianze sulla presenza di servizi per lo scolo delle acque che si trovavano lungo le strade, ossia le chiaviche. Va sottolineato ancora che un reticolato di vie pubbliche appare ben presente anche in aree della città che in questo periodo erano caratterizzate dal non costruito, nelle quali dominava un paesaggio rurale, il che tuttavia non vuol dire abbandono o assenza di frequentazione. Le testimonianze in tal senso scaturiscono da alcuni fabbricati rurali, siti di servizio edificati in forma effimera, oppure particelle coltivate che sono ugualmente ben delimitate da vie pubbliche. In particolare le attestazioni vengono dalla nutrita serie di vigne in Framenia Urbis, anch'esse confinanti con vie pubbliche, localizzate in prevalenza nella regione Monti. Seppure non costruito, il tessuto delle parcelle, anche in queste aree, sembra completamente occupato e ben servito da una rete di strade. E a questo proposito mi ha colpito quella parte a destra della pianta di Paolino da Venezia, vista ieri, raffigurante un tessuto regolare ortogonale di isolati, probabilmente non realistici, ma rappresentativi alla luce delle menzioni appunto dei notai. Anche se meno stipesso, e per lo più nella documentazione più antica, tracce di questo genere si trovano anche nei rioni più urbanizzati. Si tratta di ultimi spazi aperti nell'area centrale della città, che proprio da questo periodo in poi andranno chiudendosi con l'aggregazione di nuovi fabbricati abitativi. Viceversa, zone poco urbanizzate, per esempio ancora nell'estesa superficie della regione Monti, appaiono meno strutturate, proprio per la mancanza di vie pubbliche elencate tra i confini riferiti alle aree coltivate. La medesima espressione via pubblica è impiegata anche per indicare l'affaccio su strada di un certo numero di vigne subito fuori dalle mura, nell'area del suburbio. In questi casi appare chiaro il riferimento all'irraggiarsi delle vie consolari. Queste tuttavia non sono mai designate con la propria denominazione, cheppure era nota, preferendo il notaio limitarsi all'indicazione della porta nelle mura aureliane dalla quale esse hanno origine. Dunque non sembra esserci differenza nella percezione della viabilità tra l'interno e l'immediato esterno delle mura, così come la stessa cinta aureliana in questo periodo doveva, sì, percepirsi come una cesura, un taglio, ma inserito nell'ambito di un ampio paesaggio indistinto. Le vie principali, come indica la terminologia utilizzata dai notai per disegnarle, erano considerate non solo di passaggio, ma luogo pubblico. A rafforzare questa percezione contribuiscono alcuni atti recanti, la documentazione di questioni giuridiche, ben legate a quanto abbiamo appena sentito da Cristina Carbonetti, e di testimonianze sull'uso simbolico delle vie. La strada infatti era salvaguardata da eventuali forme di privatizzazione effettuate attraverso l'apertura di porte nelle pareti che vi si affacciavano, e lungo di essa, in un'area stabilita, era consuetutine celebrare la cerimonia del perdono fra due personaggi, che doveva essere seguita dalla stipula di un atto di pace. In presenza di arbitri del rio Lunè, una delle parti doveva recarsi inerme sulla via pubblica, dove avrebbe trovato l'altra, davanti alla quale si sarebbe tolta il cappuccio, si sarebbe inchinata e avrebbe chiesto perdono in nome di Dio. L'altra a sua volta, con un gesto simbolico, gli avrebbe posto una spada di piatto sulla spalla e avrebbe pronunciato parole di perdono. Ma di uso sociale sentiremo parlare anche nei successivi interventi. Le strade recanti di nominazioni negli atti notarili relativi ai beni urbani sono rarissime, anche se in alcune vie pubbliche si possono probabilmente identificare, almeno in parte, alcuni tratti dei percorsi noti da altre fonti con un proprio nome. E dall'elenco che se ne ricava, sembra inoltre che le rare precisazioni topografiche siano riferite a tracciati che figurano nominati insieme alle vie pubbliche negli elenchi di confini, tracciati individuati attraverso le località collegate. Oppure si tratta di strade fuori città e di denominazioni mutuate dai più noti assi, attribuiti a contrade, a intitolazioni di chiese o infine riferite alla provenienza dei contraenti. Risulta dunque difficile realizzare una localizzazione in pianta dei tracciati viari solo a partire dalla fonte notarile. Questa si rivela preziosa, soprattutto per comprenderne l'uso nella realtà quotidiana della città e studiare le dinamiche di trasformazione del tessuto urbano. Unica via urbana con propria denominazione, finora, nella schedatura che ho potuto effettuare, è la via pubblica Caballi, sito scelto dal notaio per far incontrare senza armi le due parti entrambi appartenenti alla contrada Caballi Marmorei per risolvere una controversia. I vicoli vicinali sono oggetto dimensioni rare e per lo più limitate esclusivamente in città alle aree rurali, mentre ben più frequenti sono nel caso delle vigne extraurbane nel suburbio. Come già esposto, si tratta di passaggi per lo più privati per usi domestici e scolo delle acque, da distinguersi dalle trasenne che abbiamo visto stamattina con gli abbarelli, e la loro menzione può figurare attraverso il termine mediante per indicarne la posizione fra due proprietà, con andamento quindi ortogonale rispetto alle vie pubbliche disposte ante e retro. I vicoli nominati dai notai nelle aree urbanizzate di Lea Breve saranno destinati per lo più a sparire sotto la pressione edilizia che determinerà la chiusura generalizzata degli spazi aperti rimasti al fine di aumentare il volume di quelli abitabili. Nei protocolli notarili considerati, oltre all'espressione via pubblica, figura solo un paio di volte il termine strata in sostituzione di essa, SEU o VEL via pubblica, sia nel caso di beni urbani sia in quello di una vigna fuori la Porta Appia. Si tratta di un termine che nell'Alto Medioevo aveva significato di via antica, ma il suo senso si era poi allargato progressivamente a partire dal secolo XIII e non necessariamente, mi sembra, riferito a strade lastricate. A differenza delle vie, le plate sono quasi sempre qualificate dal notaio con una denominazione propria o in base all'affaccio su di esse di chiese o di elementi edilizi di spicco. La loro individuazione topografica risulta dunque più facile. Come indicato da Etienne Hubert, il termine platea risulta diffondersi progressivamente dal secolo XIII, più che altro con il senso di via importante, corso, in un'ottica che nel nostro caso è testimoniata dalla spaziosa piazza davanti alla Minerva, platea Minerbe, sive via pubblica. Il termine si trova anche nella forma diminutiva plateula. Oltre alle chiese, sulle piazze, facilmente risultano installati banchi di mercanti e un certo numero di atti attesta, per esempio, la presenza di macelli in piazza nella contrada Arcanoè. O erano luoghi destinati a giochi, come agonis e testaccio, in questo caso denominabili tramite il vecchio termine utilizzato per gli spazi di incontro, ossia campus, e ben documentati dagli statuti del 1360. Un esempio è appunto il campus agonis, che figura qua le confine di Palazia e Casamenta, situate vicino alla chiesa di San Nicola di Agone nel Rione Ponte, insieme alla via pubblica e platea, dove abbiamo un uso contemporaneo dei due termini, che quindi in questo contesto sembrano riferiti a realtà diverse o almeno percepite tali. Anche nel caso della piazza disponiamo di una testimonianza sull'uso pubblico e simbolico di essa, in quanto sede di un arbitrato fra contraenti tenuti a presentarsi nella platea Leombardorum, l'uno senza armi e l'altro armato di spada, che dovrà colpirlo sulle spalle e pronunciare parole di rimprovero a mo' di pubblica riparazione. Trapella infine da alcuni atti un significato leggermente diverso di piazza, sia pure aperta al pubblico, ma soprattutto destinata agli abitanti di un complesso, un insieme di abitazioni pertinenti ad una medesima famiglia. Non si tratta comunque di un cortile privato, ma di uno spazio aperto sul quale esponenti del nucleo in questione vantavano alcuni diritti. I notai della Roma del Trecento, in conclusione, mi sembrano trasmettere un'immagine della rete viaria affine a quella studiata da Etienne Hubert. Fin dal secolo precedente, infatti, la città medievale è ormai definita. Come è noto, all'epoca dei più antichi protocolli notarili, l'area all'interno delle mura aveva già subito le principali trasformazioni del tessuto urbano, risalente ai secoli XII-XIII, trama del costruito ormai infittita, distinzione netta fra aria abitata e disabitata sui colli e ridosso delle mura, struttura delle abitazioni in parcelle lunghe e strette, con orto alle spalle e affaccio su strada. La rete delle vie, ormai in modo consolidato qualificate con l'aggettivo pubblica, si sovrapponeva in parte all'antica, seppure con aspetti innovativi per rispondere ai nuovi bisogni, e inoltre era oggetto di interventi che però risultano limitati alla manutenzione dei tracciati esistenti, non all'apertura di nuovi. Le recenti ricerche archeologiche, come abbiamo ben visto ieri, mostrano estese sequenze stratigrafiche con una serie di successivi piani stradali caratterizzati da alternanza di selciati, soprattutto battuti, acciottolati e abbandoni, stratificati fin dall'alto medioevo e con forme di continuità sugli stessi assi, spesso sino all'età contemporanea pur con gli adattamenti di quota. Per interventi più consistenti e innovativi occorre rivolgersi al periodo successivo con i papi quattrocenteschi, pavimentazione delle strade, progettazione di nuove, soprattutto secondarie, mentre le principali rimasero, mi sembra, in gran parte quelle di età imperiale. Si registrano anche i cambiamenti negli equilibri degli orientamenti fra le direttrici del traffico urbano e in conseguenza delle funzioni economiche. Inoltre, ora sì, si aprono strade a cura dei papi cinquecenteschi che lasciano loro il proprio nome e riemergono anche antichi percorsi che erano stati interrotti o interrati. E tuttavia, dal punto di vista della normativa viaria, Anna Modigliani osserva una netta continuità da parte dei papi quattrocenteschi nei confronti della difesa del suolo pubblico dalle ingerenze dei privati al fine di assicurare funzionalità e sicurezza alla viabilità urbana rispetto alla politica già messa in atto dal Comune Romano, da Colla di Rienzo e da quanto prescritto negli statuti. Ciò che mi ha colpito, inoltre, è la consuetudine nei riguardi della denominazione e poche strade erano disegnate con un proprio nome. L'abbiamo visto in queste giornate e anche stamattina con la relazione di Andrea Veratti. E non solo da parte dei notai, se non sbaglio, anche nelle fonti narrative sembra che solo dalla fine del Quattrocento si cominci a dedicare un paragrafo specifico alla descrizione delle vie e delle piazze. E anche quando queste compaiono nelle esposizioni relative al restauro e all'ampliamento da parte dei pontefici, figurano per lo più senza denominazioni proprie. Si vede che non era ritenuto necessario, si utilizzavano altri punti di riferimento nella maglia delle strade e delle piazze. I nomi delle strade si diffonderanno progressivamente, ma in modo sistematico si affermeranno solo più tardi. Penso per esempio alla descrizione del nuovo ripartimento dei rioni di Bernardino Verdardini nel 1744, allo stesso Nolli, al Catasto Urbano, con strade e numeri civici recanti la corrispondenza esatta con le particelle. Del resto, uno scandaglio sull'atteggiamento da parte dei contemporanei nei confronti delle strade in altre città, per esempio Terracina, Tivoli o Viterbo, rivela modalità simili per quanto riguarda sia la designazione